Ciao a tutti, faccio questo brevississimo video per sfogare la mia rabbia Perché mi sono stancato di vedere camion Bartolini ad ogni strada che svolto Infatti, soprattutto in quest'ultimo periodo, sembra che la percentuale della media dei camion Bartolini A vista di circolare nel mondo, si è aumentata dall'86,4,9,7,8,5,5,5,5,9,8,6,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Periodico per cento Cioè non è mica fatto male Cioè nel senso Wow Ma io ho voluto scavare più a fondo Non solo per trovare diamanti, ma anche perché mi sono chiesto il perché del perché di tutto questo E allora mi sono messo davanti al computer Anche perché dietro non si vede un piffero E ho fatto una ricerca Per la scuola E vabbè, ho preso uno più Ma dettagli, dettagli L'importante è che però io sia riuscito a capire la vera storia dei Bartolini In sintesi, questo Natale sono stati loro a portare i regali ai bambini Non quel ciccione di Babbo Natale Lo so, lo so Ora avrete le idee un po' confuse E quindi lasciate che vi spieghi dall'inizio In breve Dovete sapere che tanti, 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 tanti millenni di secoli fa I Bartolini furono una povera famiglia di Barboni Che viveva sotto un ponte Gli anni passarono e loro si riproducevano E continuarono a vivere sotto un ponte Ma niente, altri secoli passarono e loro ancora mangiare scarte di cibo Trovate nella spazzatura o piccioni morti, fritti Un giorno però, un Bartolino coraggioso di nome Rodolfo disse ai superenti Basta, mi sono stancato di vivere sta vita schifosa Dobbiamo fare qualcosa Ma niente, questo intervento non influenzò per niente la vita dei Bartolini Altri secoli passarono Fino a quando un altro Bartolino coraggioso e intelligente di nome Filiberto Riuscì a costruire un camion con dei pezzi di plastica trovati nella spazzatura E riuscì anche a riparare un computer con il quale lui e la sua famiglia si aprirono un sito internet Su dove vendere i rifiuti che trovavano in giro Attraverso il camion Che non era un semplice camion Era un camion rosso Grosso Più grosso Consegnarono i loro prodotti alle persone interessate Evitando ogni volta, nei peggiori dei modi, la polizia Dato che non avevano la patente Continuarono a svolgere questo lavoro per centinaia di anni Efficienziandolo sempre di più e guadagnando sempre di più Fino a quando ebbero la possibilità di comprarsi un vero e proprio camion Che hanno personalizzato con il logo BRT 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 BRP! Sì ma non è finita! Vista la bravura dei Bartolini nel consegnare rifiuti, Amazon decise di affidare a al BRT il compito di consegnare i loro pacchi, dato che la ditta si era letteralmente rotta ai testicoli. Ovviamente pagandole migliaia e migliaia di euro. E loro... beh... accettarono! E fu così che dopo pochi 50 anni diventarono miliardari! E si riuscirono a comprare una villa in riva al mare! Poi però arrivò uno tsunami grosso che gliela distrusse e loro dovettero tornare a vivere sotto il ponte. Nel frattempo però, l'anno scorso, al polo nord ci fu stata una glaciazione e Babbo Natalio, che in quel momento era andato per funghi, morì. Così gli elfi dovrebbero trovare qualcuno nel mondo che sostituisse il panzone a svolgere il suo compito. E chi è che lo potesse sostituire se non i mitici Bartolini? Nessuno a parte i mitici Bartolini! Così gli elfi gli scrissero un romanzo d'avventura sul loro sito internet, chiedendogli se potevano andare al polo nord per aiutarli. I Bartolini furono così eccitati dal loro invito. Così misero i pneumatici invernali al loro camion e partirono. E vabbè, arrivarono e gli elfi misero sul loro camion un po' di polvere magica in modo tale che volasse. E così, anche il Natale 2017 fu un Natale come si deve. Gli elfi produciarono i regali attraverso la magia e la notte del 24 i BRT li consegnarono a tutti i bambini del mondo. L'operazione fu riuscita. Tutto sembrava perfetto. Fino a quando, durante il viaggio di ritorno, la magia natalizia contenuta all'interno del camion si esaurì. E questo cadde a terra come un sacco di fagioli metallici e provocò un grosso incidente. In successione a questo, tantissimi Bartolini morirono. Anzi, anzi, praticamente tutti. Solamente due su 394 mila di trilioni sopravvissero. Questi due Bartolini si chiamano Pierino e Giancarla, ma questo, vabbè, poco importa. La vera domanda è, ce la faranno i nostri eroi a portare avanti la famiglia e non farla arrivare alla sua estensione? Fine. No, ma che fine? To be continued! Cioè, nel prossimo episodio delle avventure dei Bartolini! Solo su Humorcraft. Vabbè, dai, siccome sono un bravo ragazzo, vi racconto la fine della storia, ma solo perché siete voi. E in sostanza Pierino era gay e quindi non ha voluto trombarsi la Giancarla né tanto meno qualunque altra tipa. E così, la dinastia dei Bartolini, durata centinaia di migliaia di millenni, si estinguerà. Fine. Ah, e per tutti quelli che pensano che Bartolini portino sfiga, la possono portare veramente, perché se cercate su Amazon sfiga, cioè nel senso, c'è la sfiga! E quindi la possono portare veramente.